benvenuti in questa guida top 7 zanzariere elettriche di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo vi f l y k o zanzariera uccidi efficacemente le zanzare il killer di zanzare elettronico utilizza due lampade ultraviolette da 10 watt vediamo la nostra valutazione una qualità generale eccezionale un'offerta convincente con una straordinaria funzionalità con un rapporto qualità prezzo fuori dal comune il nostro punteggio generale è di 73 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo zanzariera elettrica tecnologia bionica termica del corpo la zanzariera elettrica per mosche adotta la tecnologia di attrazione delle nano zanzare project ecco cosa pensiamo 5 stelle nella qualità generale uno sconto davvero importante una funzionalità straordinaria con un rapporto qualità prezzo adeguato il nostro punteggio generale è di 75 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo su nila lampada uccidere le zanzare in modo sicuro la lampada trappola per zanzare con metodi fisici e funzionamento silenzioso non tossico inodore e vediamo la nostra valutazione una qualità generale buona offerta molto interessante tre stelle per le caratteristiche nel rapporto qualità prezzo raggiunge tre stelle il nostro punteggio generale è di 83 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare con opu zanzariera sicurezza non usa gas nocivi spray o prodotti chimici uccide efficacemente fastidiose zanzare o insetti senza causare danni alle persone vediamo il nostro parere qualità generale davvero eccezionale un'offerta convincente con ottime caratteristiche in definitiva è davvero buono il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 89 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo y un l i g h t s zanzariera potente controllo degli insetti lo zanzariera elettrica con lampadine 2 asterisco 15 w emette una lunghezza d'onda di 365 newton metro che attira tutti gli vediamo la nostra opinione la qualità generale raggiunge 3 stelle interessante l'offerta nelle caratteristiche raggiunge 5 stelle straordinario il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 85 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo zanzariera elettrica zanzariera elettrica efficace da 20 w end 2800 vl a lampada anti zanzare elettrica dotata di lampade uvi ad alta intensit da 20 w che possono ecco la nostra valutazione qualità generale davvero eccellente proposto a super sconto con una funzionalità eccelsa straordinario il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 89 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica aspe cte k lampada potente protezione dalle piastrelle le lampade uvi del distruggi insetti aspekte cattirano mosche zanzare e altri insetti volanti da una ecco il nostro parere una qualità generale buona buona la promozione per le funzionalità raggiunge 4 stelle ampiamente sopra la media il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 98 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale Grazie a tutti